Traffico illecito di rifiuti tra la Puglia e il Veneto, imprenditore della marca nei guai. Raida dei ladri in concessionaria, spariscono un'auto e dei motori. A Mogliano cittadini imbufaliti per la pericolosità di un cavalcavia. La gang del treno identificati e denunciati i ragazzi che si sono scagliati contro la polizia. Edizione di Treviso dei notiziari di Rete Veneta, buonasera e ben ritrovati. In apertura un traffico illecito di rifiuti avveniva tra la Puglia e il Veneto. Un imprenditore della marca è finito nei guai. Sentiamo. Traffico illecito di rifiuti dal Veneto alla Puglia, la Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato a piede libero 25 soggetti, tra cui tre imprenditori che sono stati interdetti per un anno dall'esercizio della loro attività. Si tratta di un broker 55enne di Mogliano, di un 62enne Foggiano e di una 37enne di origini romene. Sequestrati in via preventiva tra i siti di stoccaggio non autorizzati, due nel Veneziano, a Marghera e Malcontenta, uno a Casalvecchio di Puglia. Sono stati consistenti i vidi materiali plastico, in realtà solo fittizi verso la Slovenia, gestiti dal Trevisiano a insospettire i finanzieri risaliti a un traffico di scarti industriali che sulla carta si giostrava tra Italia, Svizzera e Slovenia. Ma in pratica i rifiuti venivano stoccati in siti non autorizzati tra Veneto e Puglia, privi di garanzie dove non erano mappati, per poi essere rivenduti a prezzi concorrenziali. 16.000 tonnellate, il tutto eludendo il fisco, per 6 milioni di euro e la cosiddetta ecotassa per circa 90.000 euro. Sicuramente la società in provincia di Treviso che è stata attenzionata durante l'attività di indagine può essere considerata il vero fulcro dell'attività illecita di una vera e propria associazione criminale. L'imprenditore trevisiano teneva le fila di diverse attività che coinvolgevano tanti altri operatori in tutto il territorio nazionale. E tutto questo imbarba alla leale concorrenza, i rifiuti prendevano infine la strada della Germania. Sono rifiuti speciali, non pericolosi, si tratta più in particolare di materiale plastico, quindi non c'era un vero e proprio pericolo per l'ambiente. Ancora cronaca, ride dei ladri in una concessionaria, spariscono un'auto ma anche dei motori. L'ho fatto il giro di là, naturalmente non li conto, l'ho fatto il giro, sono usciti da qua e poi hanno buttato giù un'altra rete di là e sono usciti dietro. Se ne sono andati da qui a prendersi un varco nella siepe e passandoci con l'auto che avevano appena rubato, carica di tutta l'area furtiva. È ciò che rimane dopo il ride notturno dei ladri nelle concessionarie lungo via Roma a Villorba. La prima, a finire nel mirino, è stata la concessionaria dell'usato di autosile. Qui, i malviventi, dopo essere entrati in questo cappannone adibito a deposito, si sono messi ad armeggiare con gli attrezzi dell'officina, rubati anch'essi, per staccare il motore da questa imbarcazione, nonché parte della componentistica di bordo. Dopodiché hanno rubato una vettura che avevamo qui, in riparazione sempre, per la carrozzeria, hanno caricato le varie attrezzature che hanno rubato all'interno del cappannone, assieme al motore del latante, hanno fatto il giro e poi sono usciti del retro. Con tutta la calma necessaria, i ladri sono pure riusciti a cambiare la batteria della Subaru che avevano preso di mira. Prendendone una da un'altra macchina. Oltre passata la siepe con auto e motore, si sono dati da fare nel cappannone adiacente, dove hanno fatto razzia di pezzi e componenti del concessionario Citroen e di due moto da quello della Ducati. A dir poco preoccupati i titolari, di fronte a ripetersi di questi furti. Un vero accanimento. Ancora a cronaca, un botto fortissimo sentito da tutti i residenti della zona. Qui abbiamo l'immagine che ritroviamo su Treviso Today, immagine comunque fatta dal 118. Esplode la tubatura di un silos di segatura. Paura dunque alla Archiuti di Olmi, a San Biagio di Callalta. L'episodio è accaduto nel pomeriggio all'interno dell'azienda di via Postumia. Sul posto i vigili del fuoco e anche il suma. Per fortuna non si sono registrati feriti. Ed ora andiamo a Mogliano, dove i cittadini sono furiosi per la pericolosità di un cavalcavia. Che ci hanno segnalato? Vediamo. Si rischia la vita. Io tutte le volte che vedo pedoni o ciclisti che attraversano questo cavalcavia mi viene un brivido. Fate presto. Il grido dei residenti di via Mazzocco a Mogliano è chiaro e nitido e non da ora. Quel cavalcavia è troppo pericoloso e la conferma arriva puntuale ad ogni incidente. L'ultimo ieri, un frontale che ha coinvolto due vetture, fortunatamente conferiti lievi. Ma se ci fossero stati pedoni o ciclisti, lo scenario sarebbe cambiato. È anche in curva questo cavalcavia, quindi le due corsie sono molto strette, non danno la possibilità di un passaggio pedonale e per di più dovrebbe essere percorso ai 30 km all'ora, credo proprio per la sua pericolosità, cosa che non avviene mai. Una strada impossibile da evitare per molti. Tutti i giorni percorro questo cavalcavia, molte volte. Molte volte anche perché è impossibile percorrerlo in un altro modo, nel senso che non c'è un sottopasso e come potete vedere l'accesso ai pedoni e alle biciclette è veramente pericoloso. Quindi o lo si percorre in macchina o non c'è altra possibilità. Petizioni e appelli per ora non hanno trovato concretezza. Eleonora e gli altri chiedono di intervenire, in qualsiasi modo. Per esempio individuare una zona dove creare un sottopasso. Forse si può allargare la careggiata e creare una pista ciclabile, una messa in sicurezza per i pedoni. Forse alla peggio si fa un senso unico alternato. Io non lo so, però l'amministrazione deve prendersi delle responsabilità e deve prendere delle decisioni per mettere in sicurezza questo cavalcavia. Torniamo alla vicenda delle scorribande sui treni sulla linea Venezia-Bassano. La gang è arrivata al capolinea perché sono stati identificati e denunciati i ragazzi che si sono scagliati anche contro la polizia. Gli insulti, le minacce, le aggressioni, padroni delle carrozze del treno. Di un treno in particolare, quello che viaggia tra Venezia e Bassano passando per la marca. Arroganti e capaci di creare panico e paura. Ma se le incursioni della gang si moltiplicano, le indagini della polizia ferroviaria non si sono mai fermate. Così anche gli ultimi casi trovano una prima risposta. Individuati i due protagonisti, un ragazzo e una ragazza, dei ride del 4-18 ottobre scorsi. Primo episodio, la coppia si scaglia contro un capotreno colpevole di aver chiesto loro il biglietto che non avevano. Poi si dileguono alla prima fermata. La sera stessa il ragazzo, nuovamente sul treno, inveisce contro l'addetto che gli aveva chiesto di ricomporsi visto che teneva le scarpe sui sedili davanti. Ancora insulti, minacce e fuga. 14 giorni dopo, di nuovo la coppia trovata senza biglietto. Stesso copione, ma stavolta vengono fatti scendere qui il giovane, un ventenne italiano, strattonando gli agenti di polizia scappa mentre la ragazza, una minorenne rumena, resta bloccata. Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di incastrarli per gli episodi. Denunce per oltraggio, resistenza e violenza pubblico ufficiale. Il ragazzo anche per danneggiamento. Ma non è finita. La Polfer ha anche identificato e denunciato un 19enne straniero che faceva parte del gruppo violento in azione il 30 settembre scorso. La prima azione della gang che da due mesi semina il panico sui fagoni. E dalla telegiornale di Treviso è tutto. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.